Un video, questo, che si allontana un po' dai soliti video che vedete sempre. Perché ragazzi? Perché questa sera ci sarà la seconda semifinale e si affronteranno Inghilterra e Croazia. Quell'Inghilterra che sta vivendo un sogno, quella Croazia che non si trovava qui, da appena diventata Croazia. E ogni mondiale racconta una storia, lo sapete ormai. Abbiamo la storia di Lukaku, per esempio. Lukaku che ieri è uscito. Lukaku che non è riuscito ad eliminare la Francia. Quel Lukaku che disse che quando vide per la prima volta la madre allungare il latte con l'acqua perché troppo poveri, decise che sarebbe diventato ricco, che sarebbe diventato un calciatore e che avrebbe fatto la differenza e che la madre non avrebbe mai più allungato nella sua vita il latte con l'acqua. È una storia, un'altra storia, ad esempio, può essere quella del portiere dell'Iran, il portiere Beiran Vand, che faceva il pastore poco tempo fa e oggi para un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo, uno dei due migliori giocatori al mondo. Ma la storia che vi voglio andare a raccontare oggi è la storia di Harry Maguire. Chi è Harry Maguire? Per chi non lo conoscesse, mi sembra molto strano, visto che già è un nazionale, è un giocatore dell'Inghilterra ed è uno dei giocatori in prospettiva futura più ottimi, se così si può dire, del panorama calcistico. Harry Maguire, umile lavoratore, così è stato definito dai giornali, dalla Critica e da tantissime altre testate giornalistiche. È esploso nell'Eister, il suo trasferimento, ragazzi, all'Eister, alla squadra campioni d'Inghilterra due anni fa, gli ha aperto la strada a quello che Harry Maguire è oggi. Nell'ultima stagione le ha giocate tutte Harry Maguire, tutte, nessuna esclusa, è diventato un perno centrale della sua squadra. E pensate, ragazzi, che la storia che vi sto raccontando è molto, molto particolare. Torniamo a due anni fa. Due anni fa, ragazzi, l'Inghilterra giocava l'Europeo, con la speranza di riuscire a vincerlo, un po' come fatto quest'anno con il Mondiale, ma soprattutto con la speranza di avere un tabellone, la parte del tabellone è molto, molto semplice, per arrivare fino in fondo, un po' come fatto quest'anno al Mondiale. Quella parte poi fu vinta in toto proprio dal Portogallo, che poi riuscì anche a vincere l'Europeo affrontando la Francia e battendola, con un Cristiano Ronaldo quasi allenatore. L'Inghilterra in quell'Europeo fu fatta fuori da un paesino molto, 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 molto piccolo, circa così, con pochissimi abitanti e con pochissime pretese. Quel paesino, ragazzi, si chiamava Islanda. E l'Islanda che quest'anno, fra le altre cose, non è riuscita a passare il girone in un raggruppamento di ferro con Croazia, Argentina e Nigeria, che comunque ha dato filo da torcere all'Argentina e a tutte le altre compagini. L'Islanda in quel momento, quel giorno, eliminò l'Inghilterra. Vi ricorderete, poi verrà eliminata dalla Francia, perdendo tanto a poco, mi sembra 5 a 2, prendendo tanti gol nel primo tempo, chiudendo la prima frazione di gioco in goleata con addirittura i commentatori che diranno, e adesso che cazzo commentiamo? Non so se ricordate. L'Inghilterra fu eliminata dall'Islanda. Il pubblico, tutto il pubblico inglese, rimase basito. Fra il pubblico inglese, nella curva dei tre leoni, c'era lui, Harry Maguire, con i suoi amici, a tifare l'Inghilterra e a rimanere deluso dall'Inghilterra. Due anni dopo, Harry Maguire è diventato un giocatore dell'Inghilterra. Ai mondiali i suoi amici ci sono ancora, sono sugli spalti, a guardare la nazionale inglese. Lui è a cambiare le sorti della nazionale inglese. E con la Svezia è lui a segnare il gol, che elimina i gialli, e che permette ai tre leoni di accedere ufficialmente al turno successivo, di arrivare fra le prime quattro del mondo, di accedere in semifinale. Harry Maguire è passato ad essere un semplice tifoso, ad essere l'eroe dell'Inghilterra. Quello che ha cambiato i destini, che provava a cambiarli urlando dalla curva, e che adesso li cambia in campo. E sia mai che ancora oggi, stasera, contro la Croazia, possa essere ancora lui, Harry Maguire, l'eroe dell'Inghilterra.